Uela ragazzi, ciao a tutti da Nick, bentornati qui su Ark Survival Evolved nella mappa Lost Island Come sempre ragazzi, vi vado a ricordare che in descrizione ci potete trovare più di un link che vi permette di comprare questo gioco Se magari vi sta piacendo, vi ricordo anche che in descrizione ci trovate i miei canali social, i miei canali telegram E mi raccomando ragazzi, se vi iscrivete al canale, pigliatevi anche l'ombrello ragazzi E mi raccomando ragazzi, se vi iscrivete al canale, ricordatevi di attivare la campanellina Così che potete ricevere le notifiche ogni qualvolta carico un nuovo video Mazzò, sta a piovere fuori Allora ragazzi, prima di cominciare vado anche a svuotare la serra Quindi le carote della serra e anche le narco bacche Stiamo a fanar, codici a go go Andiamo a prendere quella degli altri animali Comunque sia ragazzi, allora, nello scorso gameplay Abbiamo fatto fare un bel po' di livelli alla viverna E in più abbiamo fatto anche noi un bel po' di livelli Nello scorso gameplay E abbiamo sbloccato E abbiamo sbloccato ragazzi la sella per il tirannosauro Abbiamo adesso la possibilità di creare la sella del tirannosauro Allora, oh ma qui, come mai buio? Ah, sono le 6 del mattino Allora, boom Ehm, quindi vediamo un po', mi pare che la sella l'ho sbloccata già Quindi in teoria la dovrei trovare qua dentro la sella del tirannosauro Sella per tirannosauro, una cavolata Le potrei fare un botto di queste selle La pelle non manca, metallo non manca La fibra, figura di se me manca la fibra Quindi A parte quella nella realtà Nella realtà vorrei tanto la fibra, la FTTH Comunque Andiamo a mettere la sella al tirannosauro Ehm, quindi Sella Sta roba qua non serve Neanche questo Questo va male Oh, quanta bella chitina E a proposito di chitina Ci vorrei fare una certa cosa con questa chitina Difatti un po' me la voglio tenere Allora, vorrei addomesticare un piccolo animaletto Vorrei tanto addomesticare un piccolo animaletto Però è un po' complicato da trovare Ed è anche un po' complicato da addomesticare Ehm, dunque, mazza Oh, che c'è pure la nebbia, mo? Allora, questo si mette in frigo che va male La chitina È importante E la mettiamo da parte Ah, comunque Prima di andare a cercare anche questo animaletto E prima di farci un giro col tirannosauro Vorrei tanto Iniziare a craftare Certi proiettili Se non li ho già craftati Ma il fucile l'avevamo già creato? Ma forse no Non mi ricordo L'avevo già creato Ah, sì, il fucile l'avevo creato E i dardi ce li abbiamo Ma sono pochi Perché mi voglio Voglio cominciare a prepararmi Dobbiamo iniziare a prepararci Per l'addomesticamento del giganodosauro Quindi diciamo che vorrei craftare un centinaio di questi Mi manca la gunpowder però Questi me li fa doppi? Ah, me li fa doppi Ottimo che me li fa doppi Allora, la gunpowder dobbiamo Cioè la polvere da sparo devo fare Vai Va bene E si comincia raga Perché dobbiamo fare sti proiettili Devo prepararmi Bene 166 proiettili sedativi Più quelli che abbiamo Eh, devo preparare un botto di proiettili sedativi Perché il giganodosauro raga È un animale Che praticamente Richiede un botto di proiettili Prepariamo anche una tagliola grande Ma non me la fa craftare ora Perché Vabbè, niente La crafteremo poi Poi prepariamo il resto, dai Allora, ok Quindi Intanto ho messo a preparare il necessario Perché forse magari nel prossimo gameplay Pigliamo il giganodosauro Oggi più che altro Ci dedichiamo un pochettino All'utilizzo del tirannosauro Visto che abbiamo sbloccato la sella Visto che abbiamo sbloccato la sella Il minimo che posso fare È finalmente prendere il tirannosauro E andare un pochettino in giro Fagli fare Due, tre livelli E poi L'altra cosa che voglio fare È che se trovo quell'animale Che vi dicevo Lo voglio addomesticare Il sino Sinomacrops Si chiama Una roba simile Ragazzi È un po' complicato da pronunciare È un piccolo uccello Ma è molto molto bello È molto molto utile Allora Magari lo incrociamo Qui in spiaggia Però io mi sono segnato Un posto dove lo posso trovare Comunque sì Intanto guardate qua Ah che bello Mangio la tartaruga Che mi fa bene Alla salute Vai Vabbè Allora io mi sono segnato Giù a destra Sinomacrops E io vorrei tanto andare lì Il problema è che andare lì È un po' complicato Perché Boh Da che parte ci posso andare È un po' lontano Ovviamente abbiamo il teletrasporto Vediamo Eh il punto questo è Ah l'obelisco verde Andiamo all'obelisco verde È vicino al punto Che interessa a me Oh tanto alla fine Penso che Sperando che non c'è freddo qua Ok Alla fine Voglio dire Sto per sempre Con un tirannosauro No Non penso di rischiare La pelle A venire qua Speriamo Che a miseria È diventato tutto verde Ci stanno pure qua Lì c'è un altro Livello 20 No A me serve di livello buono No di livello 20 Livello 20 Non ci faccio niente Ok Siamo nella zona giusta E ovviamente Il tirannosauro Eh qui c'è un altro Livello 60 Non mi piace Lo voglio di livello Almeno 100 È importante E il tirannosauro Ovviamente me lo sopportato Perché mi deve proteggere Dagli animali No Cosa vuoi fare Piccolino Speriamo di incontrarne uno Di livello più decente Livello 60 Se riusciamo a prenderlo Ragave Faccio vedere Perché è così speciale Questo sino Macrops Il problema è che Sta zona È dannatamente Pericolosa Ci stanno in sta zona Titano boa Serpenti velenosi Insomma E Tante altre cose Poco piacevoli Lì c'è un titano boa Difatti Dobbiamo cercare una zona Più tranquilla Qua è troppo Pericoloso Ci stanno anche I spinosauri Da queste parti Ok Qua c'è un altro Sino Macrops Ma livello 20 Dai Me ne serve uno Oh 145 85 145 Allora Dunque Dovrei ripulire Un attimino Sta zona Dalle schifezze Che mi possono attaccare Mi pare che Mega Neura Attaccano Ogni tanto Quindi Allora Speriamo che Alla zona È tutto sommato Tranquilla Allora A te Ti deve Impostare Attacco Obiettivo Boh Vediamo Dai Eh Qui c'è un Sino Macrops Di livello 20 A me non me ne frega Niente Del livello 20 Ce n'era uno Di livello 145 Dove è finito E purtroppo è molto complicato A domesticarli Questi uccellini Perché Eccolo lì Perché volano via Allora Ci mettiamo la chitina Nell'ultimo slot Qualcuno mi ha pure suggerito Di togliermi L'armatura Per Sembrare meno Minaccioso E mo' Speriamo che non Ci schiatto Eccolo lì Mi ha fatto i cuoricini Stiamo fermi Non ci muoviamo Aspettiamo che si avvicina Lui a noi Non facciamo niente Aspettiamo che si avvicina E lo sfamiamo L'ho già addomesticato Vabbè che c'ho l'addomesticamento Straveloce Io E io c'ho Sì c'ho l'addomesticamento Straveloce Non pensavo però Che bastava Giusto Non pensavo Che bastava Giusto Diciamo Una singola manciata Pensavo che Due tre volte Dovevo dare da manciare Ma c'ho l'addomesticamento Straveloce Ovviamente se non avete L'addomesticamento Straveloce Ci mettete molto più tempo Dovete stare lì Fermi Ad aspettare che lui Scende E poi gli date da mangiare E poi lui vola via Aspettate che lui Torna di nuovo Da voi A chiedervi cibo E così via Insomma Ora Chiaramente Qualcuno dirà Va bene L'hai addomesticato Cosa c'ha di speciale Questo uccellino E ora vi faccio vedere Però Dobbiamo Tornare a casa Perché sta zona Non è proprio buona Per provarlo È una zona Un po' Comunque pericolosa E niente Quindi Quindi Ce ne torniamo Di sicuro Indietro Volendo Potrei Attaccare Qualche animale Giusto per Fare un po' D'esperienza Ma si Fiamo un po' Di esperienza Va tanto Alla fine Ci abbiamo Tanti livelli Su questo Tirannosauro Quindi Morto A posto Magna Magna Canne cruda Pregiata Bella Bella sta zona Vero Questa zona Della giungla Ti fa molto Ricordare Jurassic Park Un bell'urlo Vabbè Torniamo a casa Va che qua È un po' È un po' Rischioso Allora Torniamo A casa Quindi Qui è pieno Di sinomacrops Quanti ce n'è Allora Casa dolce Casa Così vi faccio Vedere Cosa c'è Di speciale Questo Volatile Che abbiamo Appena preso Allora Intanto Lo buttiamo Giù Dalla nostra Spalla Doppio Click sulla F Ovviamente Vola Un volatile Vola Aspettiamo Un attimo Che scende Livello 217 Aspettiamo Che atterra Questo Questo Mangia Chitina Questo piccolo Animaletto Mangia Chitina Quindi ovviamente Gliela mettiamo Nell'inventario 140 È il suo Peso Inventario Allora Questo Mangia Tanta Chitina Quindi Ed è pure Femmina Allora Salute Vigore Allora A questo Gli dobbiamo dare Vigore E peso A me hanno detto Nick Gli devi dare Vigore E peso E allora Che cosa c'ha Di tanto Speciale Guardate un po' Va che figo Ci permette Ragazzi Di volare Allora Mettiamolo Giù Prendiamo Chitina E gliela diamo Perché in pratica Mangia quella Quindi Diciamo Diciamo Un migliaio Di Chitina Allora La chitina A me Pesa 10 Chili A lui La metà A lui Pesa La metà La chitina Cioè Io non lo so Se posso Tipo Caricarmi Come un Mulo E lui Continua A volare Cioè Se io Tipo Mi carico Come un Mulo Che adesso Mi porto Dietro Un mucchio Di peso Diciamo Che prendo Tanta roba Pesante Diciamo Che comincio A pesare Un botto Lui Riesce Ancora A volare Diciamo Che quindi Io vado In giro A far risorse So carico E io Ho la necessità Di volare Vediamo Un po' Che altro C'è di pesante Diciamo Che già Così Siamo Un bel po' Pesanti Eh Vabbè Siamo pesanti A voglia Se vola 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 Magnifico Raga Ok Allora Andiamo a posare Tutta sta roba E oltre Tutto A parte A farvi Volare Ovviamente Può anche Planare Quindi Io volo Poi premo La C E possiamo Planare Fico Magari 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 C'è un tirannosauro Ce ne accorgiamo All'improvviso Dici Oh porca miseria E mo E pigli E pigli E voli Via E ottimo E ottimo E ottimo Questo qui Raga E' un ottimo Animaletto Comunque ho visto anche un altro ottimo animaletto Ora vediamo se per caso lo possiamo addomesticare Niente Stavo cercando un raptor per rischiare la pelle Dici Nick Non è che le cose le dice basta Nick proprio le vuole anche rischiare No micro raptor non mi piace Micro raptor quello Mi fido poco Vabbè comunque dai Allora vi faccio vedere un altro animale molto interessante Molto interessante che ancora non abbiamo preso Tenendo premuto shift acceleriamo in planata Allora quest'altro animale qua è molto 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 interessante raga Cosa vuole? Fungo raro Beh ce l'ho il fungo raro Allora andiamo a prendere un attimo uno due funghi rari Vi faccio vedere cos'altro c'ha di bello Allora il moscope è un altro bellissimo animale Ottimo da lasciare in giro E vi raccoglie Oh ma che Non capisco perché sta planata strana Ma Vabbè Allora Ovviamente come sempre Nell'ultimo slot Bene l'abbiamo già addomesticato Allora il bello del moscope raga È che praticamente Allora lo potete cavalcare senza sella Questo è ottimo da prendere all'inizio Quando quando iniziate a giocare all'inizio a dark Questo è buono da addomesticare perché Lo potete cavalcare senza sella E in più c'è anche tutta un'altra bella funzione Lo mettete in passeggia Lo mettete in passeggia e lui vi raccoglie le risorse Vedete sta raccogliendo le risorse Lo mettete in passeggia e lui raccoglie risorse Man mano che sale di livello Gli date Peso Così che può trasportare sempre di più Ho lasciato fuori un po' Ho lasciato fuori un pochino Ah c'è un'altra cosa molto interessante Che possiamo fare Siccome c'è il rischio che lo perdiamo di vista Siccome c'è il rischio che lo perdiamo di vista Potrei craftare questo Dino Tracker Che fa parte della mod Quella dei teletrasporti L'unica cosa che richiede di particolare La carne cruda pregiata cotta Quindi dato che Vabbè non ne ho molta Ma di aver da carne cruda pregiata Si fa abbastanza facilmente Carne cruda pregiata cotta Devo mettere un fuoco da campo Ne ho tanti da parte Giustamente per via della viverna Un bel fuoco da campo Magari lo piazzo qua Carne E legna Tanto per dire 20 pezzi Pull down Accendi Ok Cuciniamo quindi un po' di carne cruda pregiata E gli diamo questo Questo Dino Tracker Così non lo perdo di vista All'animale Cioè metti che magari si allontana Parecchio Dici cavolo Dove è finito l'animale Magari si allontana Per 300-400 metri E non lo vedi più Col Dino Tracker Lo puoi ritrovare Allora i funghi rari Li vado a posare Non mi servono più Questi la metà Li posso posare Li vado a fare una bevuta Allora dunque A che punto stiamo qui Con i proiettili Li abbiamo craftati Per la prossima volta Se poi voglio prendere Quel famoso animale Per il giganotosauro Allora abbiamo 250 Non lo so se ci bastano Di sicuro Devo fare Per la prossima volta Se vogliamo prendere il giganotosauro Devo fare di sicuro Un altro fucile Perché uno potrebbe rompersi Con tutti questi proiettili Che dobbiamo sparare Poi Una tagliola grande E poi tecnicamente Ci vuole L'ingresso del dinosauro In metallo Ingresso Dino In metallo Dove caspita E l'abbiamo sbloccato Ingresso per dinosauro Metallico Di questi Ne dobbiamo craftare Quattro Vabbè Alla fine Anche nella vecchia serie È la stessa cosa Stessa trappola Alla fine Quella è Ok In pratica Ci abbiamo già Tutto il necessario Per catturare Il giganotosauro Ovviamente Però questo lo famo Nel prossimo gameplay Ci vorrà un po' di tempo Dovrei farcela Allora Metto qua dentro Tutto il necessario Così la prossima volta È tutto qua Bello pronto Anzi Andiamo a craftare Altri proiettili Che non si sa mai Meglio Meglio averne di più Che averne di meno Quindi diciamo Una cinquantina Di questi Me li fai Manca sembra Polvere da sparo Ma come Lo fa Ah no è vero Ho fatto un'altra cosa Ok Un mille di polvere Da sparo Sto a fa Carne cruda Pregiata C'è la Carne cotta Pregiata Uno di questo Crea Allora Quindi questo ci permette Di rintracciare L'animale Questo ci permette Di rintracciare L'animale Però C'è un però Se l'animale Lo mettiamo Dentro alla Criocapsula Si perde Questo dinotracker E bisogna Crearne un altro Allora Come si fa Lo mettiamo Nell'inventario Suo E glielo Facciamo Mangiare Adesso Io lo posso Rintracciare Ovunque lui sia Ovunque lui sia Io lo posso Rintracciare A parte che c'è Il simbolino Sulla testa Adesso Allora Col clic Sinistro Io posso Andare in giro Per la mappa Col clic Destro Del mouse Moscop E posso andare Su di lui Anzi no E' lui che viene Da me Ah E' lui che viene Da me Questa cosa Non la sapevo Meglio Meglio ancora Meglio Meglio ancora Molto meglio Il fatto che è lui Che viene da me Purtroppo a pochi livelli Però C'ha pochi livelli E si appesantisce Molto in fretta E lo lasciamo E lo lasciamo in giro A raccogliere Risorse Anzi volendo Lo spostiamo Qua Volendo Lo andiamo A spostare Qua Che ci sono Tante risorse Da raccogliere Sta bene Ok Ok raga Bello Allora Andiamo a Posare Quello che ha Raccolto Nella mangiatoia Andiamo a Mettere Nella mangiatoia Ah Manca la carne Qua dentro Qui dentro Ci manca La carne Devo andare Allora Nessuno C'ha un po' Di carne Così No Ho sbagliato Ho sbagliato Nessuno Ha della carne Cruda Refrigerator Ok Mille di carne Qua dentro Per gli animali A posto Difatti Qualcuno Era affamato Va bene Raga Penso che Vada a Concludere Il gameplay Che il tempo È volato via Quindi Che dirvi Ragazzi Spero che Questo gameplay Vi sia piaciuto E come sempre Mi raccomando Commentate Iscrivetevi Lasciate un bel Pollicione in su Che carino Ancora una volta Vi vado a ricordare Che in descrizione Ci trovate più di un link Che vi permette di comprare Questo gioco Se vi iscrivete al canale Ricordatevi di attivare La campanellina Ragazzi Ci si becca presto Dunque Non mancate Nel prossimo gameplay Che proviamo a prendere Il giganotosauro Vi saluto Ciao Alla prossima Raga Grazie a tutti Grazie a tutti.